Buonasera, salutiamo, inchino, inchino, buonasera dal Teatro Uno di questi studi straordinari Cile e Città, World in Roma, benvenute, benvenuti a Prodigi, la terza edizione, Prodigi, la musica e vita, risalutiamo che non si sa mai. A proposito di Prodigi, l'anno scorso, sembra ieri è volato un anno dalla scorsa edizione, ci siamo portati a questa nuova edizione, Daniele Muzio! Questo è il suo marito, a parte che ha un marito che si chiama Elvis. Che rafia, che tull, che adesso però, come facciamo in questa serata, coniughiamo il sorriso e poi alle cose un po' più serie perché andiamo a parlare dello Yemen. Daniele, l'hai detto tu prima, da bambino intelligentissimo, quale sei? Ci sono bambini meno? ...organizza scuole mobili e aiuta i bambini a superare i traumi subiti a causa di violenza e crudeltà. Nello Yemen, l'impegno dell'Unicef è davvero una corsa contro il tempo per aiutare i bambini come Elias. Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Dona oral 45 525 Allora, grazie, thank you very much Elias. Una piccola parte della storia di Elias l'abbiamo cominciata intanto a conoscere guardando le immagini. Per fortuna adesso al posto della pistola e speriamo che sia così per tutta la vita e noi lo vogliamo credere, c'è la sua amica prediletta la chitarra. Maestro ci regali a little piece of music. Thank you very much. Thank you. Thank you. You are welcome.